Quale sarà il leader più forte in OP-03? Resteranno in vetta sempre gli stessi di OP-02? O nel terzo atto di questo TCG vedremo nascere dei nuovi re dei pirati? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. OP-03 è arrivato e con esso nuovi leader hanno fatto la loro comparsa. Primi tra tutti Katakuri, Big Mom, Luci, Ace e Nami, che in questo terzo atto del TCG basato sul capolavoro del maestro Oda daranno filo da torcire a due vecchie conoscenze di Paramount War. In questo video quindi vedremo attraverso una guida rapida quali saranno i comandanti che dall'alto della loro potenza sovrasteranno altri nella tier list e per ogni elemento che prenderemo in considerazione si fornirà anche una lista pronta per essere giocata nei local. Per lo scopo quindi ho chiesto una mano all'oramai risorsa indispensabile Mir Corco e ai signori dell'ultima Weekly Cup che mi hanno fornito una loro versione dei fatti alla quale anche io personalmente mi ci sono ritrovato. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la tier list dei migliori leader in circolazione in Pillars of Strength. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dalla tier 2 dove si troverà Big Mom. La leader presente nel settimo starter, assegnandogli due don quando attaccherà, vi permetterà di aggiungere una carta dalla mano in cima o in fondo alla fila delle vite con la possibilità di ripetere l'effetto primario se ne possiederete due o meno. Ovviamente questa tier 2 sarà popolata da molti altri leader, vedasi Kinemon, Sanji e così via, che in compagnia della madre forniranno la base di partenza soprattutto per quei nuovi giocatori che vorranno iniziare a muovere i primi passi nel TCG di One Piece giocando deck che potranno comunque dire alla loro in un torneo organizzato. La strategia del mazzo in questione orbiterà tutta attorno al manovrare a proprio piacimento le vite a disposizione, innescando effetti secondari che, una volta attivati, minacceranno seriamente l'incolumità avversaria. Passiamo ora alla tier 1.5 dove ci sarà un quintetto che la farà da padrona. Nami aprirà le danze. Il primo mill deck di One Piece dopo il ban di Kabaji sembrava aver perso smalto e invece grazie a modifiche mirate atte a potenziare i suoi punti deboli è riuscito ad imporsi fermamente sul meta del gioco. Il suo effetto sarà semplice e allo stesso tempo dannatamente pericoloso. Assegnandogli un singolo don quando infliggerà danno al leader avversario vi consentirà di scartare una carta dalla cima del deck. Unica nota non da sottovalutare sarà che, quando terminerete il mazzo, verrete proclamati vincitori dell'incontro. E quindi, affrontando questo leader, ci si ritroverà a combattere letteralmente contro il tempo, gettando sempre un occhio verso il deck avversario nella speranza di non vedere quell'ultima carta venire via attraverso qualsivoglia effetto. Un mazzo che, personalmente, non mi dispiacerebbe giocare. L'unico scopo di questo insieme di carte sarà farvi pescare o scartare quanti più elementi possibili dal deck nel minor tempo possibile. Quindi giocate bene ogni sinergia che avrete a disposizione per innescare con successo il primo effetto della gattaladra. Lu ci accompagnerà la navigatrice in questo T1.5. Il leader della CP9, nel vostro turno, una volta per turno, vi consentirà di posizionarlo in stato di attivo scartando due carte dalla mano se un character rivale verrà messo KO. Come già accennato anche nelle live della Weekly Cup, vi lascerò il link in descrizione dove potrete recuperarle, il nero in OP03 ha trovato dei rinforzi davvero validi che hanno permesso a questa tonalità di chiudere una quadra che nella war non era possibile chiudere per mancanza di elementi utili, come ad esempio Spandam o Liar Door. Il deck in questione sarà il classico dei control puri. Dovrete concentrare le vostre energie sul controllare la board nel migliore dei modi, proteggendo il vostro leader alle spalle di blocker possenti e difficili da rimuovere. Giocate per bene ogni event ed impiegate nel momento più opportuno ogni character a vostra disposizione per incatenare l'avversario in una stretta devastante. Ace tingerà di rosso il campo da gioco. Quando attaccherà o verrà attaccato, uno dei vice di barba bianca otterrà più 1000 punti di forza per ogni carta event o stage che scarterete dalla mano. Andrà da sé quindi che avrete a vostra disposizione un buon numero di event pronti all'uso, sia per distruggere character rivali che per proteggere o addirittura potenziare i vostri personaggi o leader presenti in campo. Una cosa sarà certa, andrete veloci, molto veloci premendo sull'acceleratore già dai primissimi turni di gioco, quindi qualsiasi fonte offensiva avrete sotto mano, utilizzatela senza remore. Questo deck infatti girerà molto attorno alla dinamica del rush o della presenza board grazie agli 8 marco e sarà unicamente votato al generare quanto più fastidio possibile nel minor tempo possibile, avendo comunque delle risorse molto importanti anche per un eventuale late game. Quindi ragionate in termini di aggro puro per riuscire a portarvi a casa l'incontro velocemente. Trafalgar rappresenterà la vecchia guardia che da OP-01 continua a risiedere in pianta stabile nella parte alta del meta. Il suo effetto, quando attivato nella vostra fase principale, una volta per turno spendendo due don, vi permetterà di far tornare in mano un character presente sul terreno per impiegarne un secondo in gioco con costo pari a 3 o inferiore se possiederete 5 personaggi in campo. Il medico della morte di sicuro sarà quella risorsa che in casi estremi potrà davvero fare la differenza. Il suo effetto è qualcosa di incredibile ed è proprio grazie ad esso che in 3 set non ha mai visto un tier 2 tenendo botta nel migliore dei modi grazie anche a carte facilmente reperibili sul mercato che, nell'insieme, andranno a formare una scheletratura completa dell'intero mazzo. Questo deck avrà un costo di giocata davvero basso che servirà per attivare il prima possibile l'abilità del leader. Infatti una volta che avrete apparecchiato non vi resterà altro che regolare per bene ogni singola mossa per recare non pochi fastidi alle difese rivali. Il deck ideale per tutti gli appassionati dell'archetipo combo. Infine Katakuri chiuderà questo segmento. Il leader del nuovo colore in entrata, ovvero il giallo, quando attaccherà assegnandogli un singolo don vi permetterà di visionare la prima carta dalla cima o dal fondo delle vite per poi riposizionare quella stessa carta in cima o in fondo la vostra pila delle vite. Una volta fatto ciò, il pirata della ciurma di Big Mom guadagnerà mille punti di forza. Ho visto giocare questo deck da navigatori esperti e devo dire che se utilizzato al meglio potrà dare molto fastidio all'avversario soprattutto perché andrà a controllare molto le varie dinamiche del match. Unica pecca che temo arriverà a breve sarà data dai deck presenti in altri colori dove la scarsità di risorse disponibili non sarà un problema. Mi spiego meglio. Quando in 0-2 il nero ha iniziato a fare la sua comparsa sembrava fosse inarrestabile ma nel breve raggio i vari leader come Kinemon e Ivan, i prossimi due che vedremo fra poco e lo stesso Sanji hanno iniziato a prendere le misure attingendo da un pool di carte molto più basso rispetto alla tonalità della marina e quindi la cosa che mi preoccupa anche per il giallo sarà proprio questo fattore ma è una mia supposizione quindi fondata sul nulla. Vedremo con il tempo come si evolverà la situazione. Anche qui come per Big Mom la dinamica di gioco si baserà sul controllo delle vite proprie e di quelle avversarie andando ad impiegare colossi spaventosi che vi aiuteranno a fare a pezzi le difese nemiche. giocate bene attorno alle meccaniche che vedranno muovere l'intero mazzo e affidate la win condition all'utilizzo di Big Mom a costo 10 che con il suo effetto potrà rappresentare per voi una chiusura facile da eseguire. Bene, dopo aver visto quali sono i vari leader presenti nella fascia intermedia del meta scopriamo i re indiscussi dei Sette Mari che anche in Pillars domineranno dall'alto questa tier. Zoro ci darà il benvenuto in T1 assegnandogli un singolo don nel vostro turno e gli fornirà più mille forza ad ogni character alleato presente in campo. Di certo lo spadaccino non avrà bisogno di presentazioni ma per chi è nuovo vi basti sapere che attraverso la sua abilità anche character con forza pari a 4000 o anche 3000 in quest'ultimo caso però dovrete assegnargli un singolo don diverranno improvvisamente minacce per le vite rivali. Il deck in questione ha subito delle modifiche dalla 02 alla 03 ma il concetto è rimasto pressoché lo stesso attaccare pesantemente azionando il motore aggro del deck grazie anche ad offensive minori che daranno ugualmente da pensare all'avversario. Utilizzando poi i vari sercini presenti nel deck potrete reperire tutti gli strumenti validi all'occorrenza che potranno darvi supporto durante una determinata fase del match. Arriviamo infine a barba bianca che chiuderà questa tier list. L'effetto del buffo andrà ad aggiungere una vita presente dalla fila delle vite alla mano durante la fine del vostro turno. A primo impatto potrebbe sembrare controproducente ma il barba oltre a darvi sempre risorse fresche in mano da impiegare all'occorrenza come vorrete in fase di counter avrà un valore di forza importante che non sempre potrà essere eguagliato per farvi arrecare danni dalle linee rivali. In 02 esistevano due versioni di questo leader Straw Hat e White Bird il primo con la presenza massiccia di elementi come Nami, Zoro, Luffy eccetera mentre la seconda con membri della shurma omonima come Marco, Yozu, Vista, Ace e così via. Ed è proprio questa lista che personalmente mi ha sempre affascinato dato che grazie anche all'utilizzo della Moby Dick in late game questo deck diventava letteralmente inarrestabile. Ma ahimè la stage in questione è andata diretta nella banned list e ciò ha rappresentato il tracollo di questo leader. Sì in un mondo alternativo nel nostro invece il vecchio ha fatto spallucce e ha continuato a dominare i sette mari senza colpo ferire sinonimo che anche in casi tremendamente avversi il Barba con un pugno è riuscito ad uscirne in colume. Ma aspetto l'arrivo di Barba Nera come leader solo per vedere come si metteranno le cose. Il deck in questione avrà molti punti fermi che potranno essere utilizzati al meglio per dare manforte alla strategia offensiva. Qui si parla di un Bore Control senza precedenti e quindi spetterà a voi difendervi con eventuali event a supporto per poi fare piazza pulita dei character avversari presenti in campo spianandovi la strada verso le vite rivali. Utilizzate con cognizione di causa ogni risorsa a vostra disposizione e la vittoria sarà assicurata. Con Pillars of Strength ci sarà da divertirsi e non vedo l'ora di osservare da vicino le dinamiche che muoveranno dietro le quinte le sinergie nascoste che ogni leader avrà da offrire assieme alla sua ciurma. E voi quale capitano sceglierete per affrontare al meglio questo terzo capitolo? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video.